buongiorno stamattina faccio colazione con la mia torta all'acqua senza latte senza buco e senza burro e il cappuccino di soia vedete come schiumoso aspettate che recupero un cucchiaino vi metto poi il link sia del cappuccino di soia che della torta all'acqua sulla torta all'acqua andrò a mettere anche un po di marmellata volevo farvi una premessa nel video del cappuccino il cappuccino è girato con il latte normale però voi potete utilizzare comunque il latte di soia vi ho fatto vedere che la schiuma sce lo stesso va bene ciao e alla prossima un bacio seguitemi sempre numerosi io faccio colazione